È indubbio che siamo un po' tutti scioccati per quello che è successo ieri, cioè la decisione del club di non prendere Ragnik, sembrava lui il candidato numero uno alla panchina del Milan della prossima stagione, e di confermare Pioli. Ma adesso incominciamo a dire quali siano quelle che secondo me sono le verità riguardo a questa decisione. Allora, partiamo da un presupposto. Vero, nessun contratto, nessun precontratto con Ragnik. Quindi ci hanno sorpreso anche le dichiarazioni usciti, o meglio i rumors, di qualche settimana fa. Ragnik, o meglio Gazzidis, avrebbe annunciato l'arrivo di Ragnik al Milan. Impossibile, perché non c'era nessun contratto, non c'era nessun precontratto. Quindi non c'è nessuna penale. Quindi non c'è nessuna penale. Però Ragnik era il candidato numero uno. Anche perché avevamo saputo, e ve l'avevamo detto senza fare nomi e cognomi, adesso facciamo nomi e cognomi. E vi diciamo che Ragnik aveva già studiato il suo organigramma. Sarebbe arrivato con Marvin Komper, ex giocatore della Fiorentina oggi al Duisburg, parla italiano. Vi avevo detto un ex giocatore tedesco che parlava italiano. Sarebbe stato il suo braccio destro da quello che ci avevano detto. Sarebbe arrivato con lui Frank Enig, oggi dirigente del Colonia. Questa era l'idea, così, l'organigramma nella testa di Ragnik, non del Milan, di Ragnik. E il Milan sembra che avesse già sondato, sondato, qualche allenatore italiano di media fascia per completare l'organigramma tecnico sportivo. Quindi la strada per Ragnik era abbastanza delineata. Dopo che cosa è successo? Senza precontratti, senza contratti e quindi senza penale. Dopo cosa è successo? Qualche uscita mediatica di Ragnik ha messo un po' di timori, visto il carattere forte dell'allenatore tedesco. Quindi questo ha fatto venire qualche riflessione. Riflessione che è aumentata dopo il buon rendimento post-stop di Pioli e dei suoi ragazzi. Che giocano, divertono, giocano, divertono e vincono. Con Ragnik si pensava a un Milan europeo, a un Milan decisamente diverso da una squadra italiana. Ora invece, e non è un dispregiativo, si va verso una normalità, una normalità che forse, secondo i dirigenti del Milan, il Milan avrebbe in questo momento bisogno. E questa riflessione è sempre aumentata col passare dei giorni. I dirigenti sanno che ci sarà poco tempo per lavorare, Ragnik ne avrebbe più bisogno. Si può continuare con questo gruppo, mettendo tre o quattro giocatori, senza rivoluzionare magari Ragnik avrebbe voluto questo. E quindi ecco per questi sono i motivi. Io non credo assolutamente, perché mi è stato detto, che sia il no di Ragnik. Il no è del Milan. No è il no di Ragnik, perché non voleva essere direttore sportivo con Pioli allenatore. Mi hanno sempre smentito da parte Club Milan che abbiano mai proposto una cosa del genere a Ragnik. Sarebbe stata un'offesa, non ha mai lavorato in questa maniera, se non magari in una fase successiva del suo lavoro. Quindi questa è la verità. Un Milan anche dice di no a Ragnik. Tanto è vero che Pioli ha dato il suo ok lunedì sera e poi è stato avvisato Ragnik ieri mattina, martedì mattina. Quindi decisione presa lunedì sera. Vediamo, vedremo. Adesso quale sarà il futuro. Bisognerà sistemare il discorso management per capire chi rimarrà, se rimarranno tutti, se può il lavoro di Moncada e Almestad è conciliabile col lavoro di Maldini-Massara e questo è un altro dei punti da risolvere però col tempo. Ma il Milan ha detto no a Ragnik dopo attente riflessioni. Non è stato Ragnik a dire no al Milan per questione di budget o questione di posizione a livello tecnico e sportivo. Aveva un'idea, aveva già scelto il suo collaboratore, aveva già scelto un aiuto a casa Milan, però tutto questo è stato vanificato da una decisione diversa. Si va avanti con Pioli, il Milan ha deciso che si vada avanti con Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti.